In attesa di vivere live in esclusiva tutte le tappe del Tour de Romandie 2016, rivedi su Bike Channel i momenti principali dello scorso anno, con la gara vinta dal russo Zakarin. Il modo migliore per iniziare a respirare l'atmosfera dell'edizione numero 70. Road to Romandie, solo su Bike Channel. Road to Romandie.